Una storia con la natura in primo piano, una natura esigente e più matrigna che madre, è una vita da inventare tra stenti, slanci e rinunce. Eppure con questo libro Franco Faggiani ci restituisce un incanto maturo, proprio perché sa estrarre poesia da una vicenda incarnata nella realtà di una terra che non fa sconti. Siamo in montagna ovviamente, come tutti i miei libri, siamo nel profondo sud del Cunese in una valle assolutamente selvatica dove predomina la natura e le nuvole piace andare a fare il nido proprio lì sopra e quindi l'inventario delle nuvole lì è quasi d'obbligo. C'è una figura molto carismatica che è quella del nonno? Sì, sono dei commercianti benestanti in una valle poverissima, nel 1915 c'è anche la prima guerra mondiale in corso e il nonno è il padre padrone della situazione, quindi quello che commercia, quello che fa affari e lo fa anche in maniera a volte un po' brutale, quindi fa solo i suoi interessi, a differenza del nipote giovane che lui addestra a fare uno strano mestiere. Hai abbinato dei momenti anche di incanto bucolico naturale con invece una certa crudezza anche dei personaggi, ci sbagliamo? No, no, è assolutamente vero perché la realtà era così, era proprio quella. Cioè, come dicevo prima, era una valle poverissima, gli uomini emigravano, gli adolescenti appena potevano scappavano via, rimanevano solo le donne con questi 5, 6, 7, 12 figli che venivano addirittura affittati ai francesi per fare i lavori più umili. Il ricorso alla montagna traduce anche un'esperienza biografica? Sì, sì, sì. Io nonostante sia romano, sia nato a Roma, ci abbia vissuto per molti anni, eccetera, come sono arrivato al nord, non conoscevo niente, nessuno. Il primo amico che ho conosciuto era uno che andava a scalare le montagne e io senza sapere nulla mi sono aggregato a lui in una maniera assolutamente incosciente, però da lì non ho più mollato. E dopo questa bella intervista una pagina assai più triste, perché quelli che state vedendo sono i locali della Italian Bookshop di Londra, un luogo materiale di diffusione della cultura, di scambio tra comunità, visioni del mondo e mentalità, che a causa degli effetti nefasti della nefasta Brexit ha chiuso i battenti. Troppo alto il costo, troppo elevati rincari alla dogana per far arrivare sull'isola libri non solo dall'Italia, ma anche da Francia e Spagna. Una sorta quindi di lutto culturale e una vittoria per la strattezza e la freddezza del rifornirsi sul web, una sconfitta per il ruolo di condivisione, calore umano, trasmissione da persona a persona, che a fronte della inevitabile digitalizzazione del mondo, i libri cartacei dovrebbero ancora, e non solo per pochi, svolgere.